Siamo a te, bentornato su Final Fantasy VII Revert. Dunque siamo diretti verso il reattore, nei racconti di Cloud. Questo è il passato di Cloud, il suo incontro con Sephiroth. Oh, il loro arrivo a Nibelheim. Eh già. Cosa stai parlando? Chi ti ha detto? Il mio padre. E il Presidente, se dovessi sapere. Soprattutto il planeto è enorme. Mako non sarà mai fuori, certo? Cosa stai parlando? 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 E' una scienza, no! Hojo, da ricerca e sviluppo Il suo precedente era un grande uomo, ma lui E' niente ma... Il complesso di inferiorità fatto persona Il complesso di inferiorità fatto persona Così lo dipinge Sephiroth Andiamo di qua Ci stanno anche i due mostriciattoli, come siamo combinati noi? Ok Dun 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 Non c'è nessuno per noi Non c'è nessuno per noi BOOM Ma cara e cosissime proprio BOOM Guardate quanta... Quanta materia ha lo stato naturale Che la materia viene... Per la maggior parte delle volte Nei tempi moderni Da crescere il laboratorio Qua è tutto allo stato naturale Cici Cici Qua dietro Cici 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 Head up Eh no perchè ha preso cura me Alcuni nemici sfarono attacchi immobilizzanti Che impediscono temporaneamente il giro Gli attacchi immobilizzanti non possono essere parati Mi si può ovviare cambiando personaggio Per caso che ho tutti e due Boom Ok Un altro Ignis Per te E' care cosa Dunque Dove dobbiamo andare? Di qua FIFA ma te sei sicura Che questa è la strada giusta FIFA si incorpora al soldato Ok dobbiamo andare di dritto Non c'è bisogno di prendere questa materia La materia estensiva La materia estensiva Sarebbe la All materia Allora per cosa? Per la glaciale Non ho mai apprezzato la glaciale Permette di ampliare o limitare con L1 Il numero di bersagli della magia babbana Energetica Così Curo Tutti Sì 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 Boom Qua Qua Non ho mai apprezzato la magia Voi siete teletrasportati Luce ci stiamo avvicinando lo sento dalla musica ecco anche credo che abbia bisogno di qualcosina in più con un po di energia a quanto pare si premendo opportunamente mentre sei in guardia con r1 ricorri ad azioni sinergiche ed accompiano insieme compagni di squadra le azioni sinergiche non consumano la barra tb e variano di base al personaggio attivo per controllare le informazioni sulle azioni sinergiche premi la cosa mentre sei in guardia con r1 ok r1 più quadrato lame danzanti colpisci con un attacco sinergico fisico a distanza con cadenabile fino a tre volte wow picchia l'omaggio guardate il pantenne dei suoi capelli se riesci a riempire la barra di stremo visibile sotto la barra del pv del nemico lo renderai temporaneamente vulnerabile lo stremo è preceduto da una fase di tensione per riempire la barra di stremo più velocemente scopri i punti deboli di ciascun avversario con l'abilità analisi e colpisci con gli attacchi e la magia più adatto oh quindi è in tensione lo stronzo ok cloud no abilità analisi analisi quindi rt e debole oh al vento quanti hti hai? 8602 eh uno che ha il vento è serbile wow e anche claudio guardate e anche claudio Sì, ma la barra ha tb, quando hai intenzione di sollevarsi, ok, fagie, energia, vertigli, ok, god è morto, mega pozione su Sephiroth, è stremato, quando la barra di Stavo è piena il nemico stremato diventa temporaneamente incapace di agire e vulnerabile, in questo casino potrai impingere molti più danni, soprattutto le abilità individuali in questo presente, la barra e tb si riempie più velocemente, permettendo di ricorrere le abilità e magia ancora più potenti, ok, abilità, porta dell'inferno, boom, fagli un'altra porta dell'inferno lo sai, Firo, boom, cloud credo abbia bisogno di cure immediate, ok, energia, tutto multiplo, ok, quindi il ciccino è andato, devo fare altro, queste non sono casse da rompe, queste sono casse da rompe, mega pozione, wow, una mega pozione, wow, una mega pozione, è una materia, materia accurata, questo di qua non si ci può andare, quindi di fuoco, per forza, questa cosa è, eh, DC per favore, va, l'altra volta, saremo bellissima, ultima cassa, ok, di qua dovrebbe, dovrebbe essere la strada giusta, wow, andiamo a salire di qua, dove raccoglieremo un'altra materia, che ti pieghi, materia automatizzante, comunque, tutti i nomi relativi a queste materie sono veramente tanti, ok, wow, e poi rompiamo tutto, ok, una mega pozione, bellissima, ok, uh, di nuovo il maco, e no, concentrazione anomala di gas, ma anche, bravo, prima devo aprire questa, e poi, con L2, ma magari, devo giucciare quel maco lì, e poi devo tornare indietro, sì, ok, cloud di questa, cloud di questa, questa parte, ok, fuori il 70%, dov'è, dov'è l'altro? l'elevatore è aperto, qua, e poi, se me lo ricordo male, ci stava una cassa, ed ecco di qua cassa, un elisir, ecco di qua, oh la panchina, qua c'è un elisir, e oltre a qui, però, non c'è nient'altro, ok, mi sono riposato sulla panchina, ho preso anche l'elisir, bellissimo, tutto questo, luce, andiamo di qua, una porta, guardate, forse di lì si esce, sì, questo mi sa tanto di boss, non mi sa tanto, questo è un boss, ferma, ferma, wow, wow, corri, non vedevi l'ora, vero? siamo certi siamo certi ok, questo mi sta facendo male un battaglio in cui puoi colpire in modo mirato a determinate parti del nemico che, una volta distrutta, lo destabilizzano e gli imperiscono di ricorrere alla attacca un po' a tempo, ok, ok, crowd prima, dove sei crowd? ok, dovrebbe essere arco posteriore e sinistro, come mi ha annullato? magie, ignira, arco posteriore e sinistro, boom, attiva la libertà, ovviamente, che sei tu? guarda, non ho provato, dovresti variegare le tue attacche, non ho provato, 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 ok, sei pirotto, mira, guardiano della materia, guardiano della materia, due vicio, arco posteriore, no, ma non mi mira, no, ho sbagliato, devo staccare gli altri, gli altri, gli altri, oh, andate lì male, finita, tirita, tanto fare o no? fallo cadere, ok, ignira, cosa? il guardiano della materia, c'è il cloud, quindi, ignis, tutto l'arto, perché... è caduto come un pirla, eh? è caduto come un pirla, eh? capito, picchiatelo, ma, le, ok, tira, ignira, potentissima, anche cloud, porta dell'inferno, ignira di nuovo, ignira di nuovo, boom, ma no, può proprio coltire, a parte in quella, può fare più di tanto danno, anche il fiato, cito, such a puppy, per affrontare il guardiano delle materie, facendolo cadere a terra, usa l'abilità sinerbica, spirale incrociata, selezionandola dal menu dei comandi, non mi piace, selezionandola dal menu dei comandi, abilità sinergiche, spirale incrociata, e chiamalo male, wow, e boom, ok, le abilità sinergiche, ok, ok, macchia, ignira, stand by, damn it, dai, ignis, sull'arco destro, sull'arco destro, giustalo male, boom, boom, buco si Pantan, take it from here, finisilo tu, aaaah, mmm, aaaah, 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 eh, nuh, nice work, nice work, ok, hold up, ok, ok, In effetti Ma se è il nemico del pianeta Deve essere un concentrato di malvagità A Tifa non piace tanto Ed eccoci Al reattore Tifa tu resti qui Proteggila tu Allora Io so Tu no Poi poniamola in questo senso Quindi non farò Magari tu sai pure Però Non Voglio Non posso fare spoiler Tutto qua torniamo indietro dove c'è una cosa Se c'è la possibilità Quindi ci saranno Ah nob Pare di nob Ok Ok da qua riesco a vedere meglio l'aria Pare proprio di nob Ok Quindi si va verso il reattore Il reattore è maco Esattamente Questo qua Quindi sono E' luce Sta andando a pieno ritmo Per il reattore Per il reattore Come Come E' luce E' luce Non 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 La compagnia necessita essere più trasparente. Dicendole al Presidente. Qual è il problema con questo posto? Le persone in charge. Mentre la maggior parte dei reattori sono sotto la giurisdicazione dell'Urbanità. Questo è stato preso da Mark D. Perché ho avuto un buon sentimento di questo? A chi lo dici, Claude? Non puoi parlare di questo. Oh, non lo so. A chi lo dici, Claude? A chi lo dici? Quindi il reattore è funzionante. A pieno ritmo, ma la gente del villaggio non ne sa nulla. Quindi deve essere questo il motivo per cui ci stanno tutti quei mostri vicino il villaggio di Nibelheim. Ok. Sono all'interno del reattore. E' tutto top secret perché il metodo Shindra è quello di tenere nascosto ciò che non va. Se vuoi pregare la tua spada... Oh, Joe. Eh, già. Opera di oggi è un maledetto. Che cosa sono queste cose? Genova? Genova Wasn't that... ...the valve function must be forcing the pods to be pressure Cloud, go out and shut off the valve And we're going to close the valve there We're going to close the valve, Cloud Cloud And these here L2, R2 Di nuovo E ancora E un'altra volta E perché no un'altra volta Chiuso Di nuovo tra le capsule Chiediamolo Sei pirotto? Cosa hai fatto? Sei pirotto Sei pirotto Creare materia sintetica Creare materia sintetica Ma Hojo Repurpose Ma con negli animali Ma con negli animali Ma con negli animali Non si è limitato solo agli animali Non si è limitato solo agli animali, eh? No Anche sugli esseri umani Maledetto Maledetto Ojo Maledetto Ojo Maledetto Ojo E' possibile che io Sibile che io Sono come questi mostri Siamo tutti Dio che ero un figlio sa che stavo Da un po' Dio che eri special ma non come questo non come questo non come questo sono anche umano? grande eroe Sephiroth eventualmente fragilamente è scomparso nella notte la sera dopo il sopralluogo e mi ritrovo qua di nuovo nella locanda di Nibelheim con Sephiroth che è scomparso Sephiroth il grande e potente Sephiroth che è rimasto sconvolto dalle rivelazioni trovate nel reattore di Nibelheim un paesino sperduto tra le montagne che aveva questi segreti ovvero laboratorio sono su una camera una camera di esperimenti con il nome di Genova ovvero la madre di Sephiroth questo gli è sempre stato detto è maleducato verso la residenza a scendere ha voluto sgranchirsi le gambe Zangan ha voluto sgranchirsi le gambe Zangan un po' in modo strano che mi sia entrata troppo amache in corpo vado a portare io le medicine quindi questi qua tutti i fotografi ho visto qualcosa potrebbe pare sì la casa di Tifa ma Tifa non c'è la porta è chiusa casa mia ma devo trovare Sephiroth quindi il mio obiettivo adesso è ritrovare Sephiroth questa è la Nibelheim di notte il tetto tranquillo è pacifico eh verso la villa Shinra Spero non sia niente l'affitto del terreno è la fonte più grande la fonte di reddito del villaggio non è piccola anzi è enorme ora che siamo qui che facciamo ora che siamo qui che facciamo il tutto il tutto è nero pensi che sta dormendo o qualcosa ma se è morto e bisogna nostra aiutare che buona ok ci c'è vorremmo che andassi a vedere come sta Sephiroth ma presto per favore in pratica sono chiamato a cercare di capire se Sephiroth sta bene o no perché tutti al villaggio è un po' serio tutti al villaggio sono convinti che Sephiroth non stia bene per questo motivo si sia andato a rifugiare nella residenza Shinra entrando nella residenza Shinra attiverò una serie di eventi che sono allucinanti quindi per oggi è tutto appuntamento al prossimo video ciao